in questo video parliamo di una delle macchine più diffuse sul mercato italiano la citroen c3 che vedete nelle immagini e che nella classifica delle 10 auto più diffuse nel nostro paese si posiziona subito dopo macchine più piccole city car quindi adatte più ad un utilizzo urbano oppure ad alcuni SUV e quindi di fatto si tratta della prima utilitaria in classifica e quindi appartiene alla cosiddetta categoria delle segmento b e cioè auto lunghe intorno ai 4 metri proprio come la citroen c3 che ha un bagagliaio che parte da 300 litri e che di recente è stata aggiornata a partire da un facelift della mascherina anteriore con la possibilità di avere ora fari anche full led sensori di parcheggio anche davanti cerchi in lega che possono arrivare fino a 17 pollici nuovi colori per la carrozzeria esterna e anche nuovi allestimenti per i rivestimenti interni oltre ad altri interventi come la possibilità di avere sedili più comodi come conformazioni in bottitura o l'infotainment con la compatibilità con android auto ed apple carplay sul sito del configuratore citroen la c3 viene indicata come nuova per sottolineare ricordare gli aggiornamenti di cui abbiamo parlato e la gamma si compone di cinque allestimenti vedete qua in alto a partire dal primo in live fino al più ricco shine pack ma direi di concentrarci su questi due centrali feel e feel pack facendo un parallelismo anche perché sono quelli che fino ad ora per le strade in un certo senso sono stati i più scelti dai clienti intanto vi faccio notare subito come si differenziano esteticamente il feel ha le ruote da 15 pollici e non presenta gli airbamp e quindi le protezioni laterali che sono caratteristiche delle citrone recenti che invece compaiono sulla feel pack assieme tra le altre cose ha delle ruote più grandi da 16 pollici ma le differenze sono anche per quanto riguarda l'offerta di motori perché la feel dà la possibilità di scegliere tra un 1200 benzina non turbo aspirato tre cilindri da 83 cavalli e un turbo diesel quattro cilindri da 100 cavalli che è bene scegliere se si fanno davvero più di 25 mila direi chilometri all'anno insomma bisogna farsi calcoli per ammortizzare la spesa iniziale e in zone in cui non è previsto almeno a breve la limitazione della circolazione per questo tipo di limitazioni mentre vedete sono passato all'offerta di motori della feel pack quindi dell'allestimento un po' più ricco che prevede qua in mezzo anche la presenza del motore turbo benzina sempre a 300.2 che passa da 83 a 110 cavalli ma per continuare il nostro confronto rimaniamo su tutte e due con il motore benzina aspirato e vedete sulla feel quindi l'allestimento meno ricco i colori di disposizione sono questi si potrebbe scegliere essendo una citroen qualche colore un po' più acceso che ci sta nella filosofia di questo tipo di marchio però io invece la sceglierei con il bianco perché a livello di pulizia e di design trovo che si abbini bene alle forme di questa piccola francese mentre per quanto riguarda la personalizzazione di altre parti estetiche non ci sono optional che si possono scegliere per la feel così come gli equipaggiamenti insomma a richiesta sostanzialmente si limitano solo alla ruota di scorta per 150 euro cosa che porta un prezzo finale intorno di poco superiore ai 16.000 euro e quindi adesso andiamo a vedere qual è la differenza con una feel pack che a livello di destino di partenza costa meno di 1000 euro in più rispetto alla feel quindi rimaniamo sul bianco ma vedete che qui si può avere anche come opzione la personalizzazione del tetto scelgo ad esempio il tetto nero vedete a contrasto così come si possono cambiare i colori dell'air bump che però lascio così e andiamo invece ad aggiungere qualche optional lasciando perdere gli adesivi, gli sticker mettendo anche qui la ruota di scorta per 150 euro vedete c'è più disponibilità di scelta come i sensori di parcheggio posteriori che aggiungiamo così come i sedili riscaldabili per l'inverno 200 euro non aggiungiamo invece i vetri posteriori oscurati così come il pack visibilità per l'accensione automatica di fari ma soprattutto per l'azionamento del tergistato automatico del sensore pioggia che sul gruppo PSA non è molto preciso nel funzionamento secondo me e poi c'è anche la possibilità vedete curiosità di se non mi piacciono eliminare senza sovrapprezzo 0 euro gli air bump laterali per una configurazione finale di 17.500 euro circa quindi rispetto ai 16.200 vedete comunque la differenza di prezzo tra le due rimane di poco superiore ai 1000 euro quindi direi che a meno che non si voglia davvero puntare a risparmiare il più possibile la versione più interessante della C3 con questo aggiornamento per il 2020 e la fill pack come allestimento tra le alternative da valutare per farsi un'idea su come configurare una macchina come la Citroen C3 cito solo due modelli sempre scorrendo nelle posizioni di questo tipo di classifiche a partire dalla Ford Fiesta che anche lei da anni è una presenza fissa in questo tipo di graduatorie insieme alla Peugeot 208 che d'altro canto fa anche parte di un gruppo di auto rinnovate completamente con modelli nuovi rispetto alle generazioni precedenti ma poi ovviamente parliamo di una tipologia di auto molto diffusa che racchiude anche modelli come le varie Polo, Clio oppure Yaris quindi sicuramente avrete molte idee e opinioni a riguardo fatecele sapere nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti